Benvenuti all'episodio numero 4 di questo vlog in cui vi fate gli affari miei. Stesso posto, stessa gente, stesso vlog fondamentalmente. Comincio questa registrazione prima che effettivamente cominci la settimana perché, come anticipavo nel vlog precedente, ovviamente voi tutti avrete già visto, ho dovuto ragionare un po' su quelli che sono gli obiettivi che voglio tracciare anche durante queste giornate e ho ragionato sul fatto che forse stavo trascurando un po' alcuni aspetti della mia vita, diciamo, extra lavoro che comunque secondo me sono importanti. In particolare questo canale YouTube e un altro progetto rapido che è un acceleratore open source che avevo iniziato ma che appunto ultimamente non ha ricevuto moltissime attenzioni. Quindi questa sarà una settimana più corta per me del solito anche perché poi ci sarà un viaggio di mezzo, ci sono anche tante cose che succederanno, ma voglio comunque darvi un po' una idea di quello che vorrò provare a fare e magari appunto già iniziare questa settimana a lavorare un po' di più su questo canale YouTube in particolare. Quindi, come vedete, alla nostra ormai solita dashboard si sono aggiunti due sezioni, YouTube e Rapido. YouTube in particolare poi è divisa tra il mio canale personale, questo dove state guardando questo video, e il canale YouTube di Rapido. Vorrei pubblicare almeno quattro video, li ho chiamati diciamo pensati, quindi non questi vlog, non gli ispezioni del tablerone, ma video registrati apposta che ho già pronti, devo registrare, o comunque video che magari mi verranno in mente sul momento. Penso che sia un obiettivo più che fattibile, insomma, prima ero in grado di farlo, devo semplicemente dedicarci il tempo e appunto spero di riuscire a registrare già uno o due questa settimana, magari anche oggi stesso in serata, vediamo. Per quanto riguarda Rapido ci sono altri due punti, quello di pubblicare tre nuovi podcast. Ecco, il podcast di Rapido è una di quelle cose che sono veramente stupido a non fare più spesso, perché per me è un'opportunità enorme di imparare nuove cose, perché intervisto persone incredibili, andate a vedere tutti i podcast che sono usciti fino adesso. L'idea è che io mi pongo da studente nei confronti di persone che sono esperte in un determinato settore, e loro mi spiegano quello di cui ho bisogno per diventare quantomeno bravino nella loro materia, ecco, diciamo così. Quindi dovrei assolutamente farne di più e spero di riuscire a pubblicarne tre. Chiaramente questi sono anche video dove io ho un po' meno controllo, perché devo trovare gli ospiti giusti, devo vedere quando sono disponibili, però ecco, questo goal vorrei mettermelo, vediamo come andrà a finire. E poi, sempre sul Rapido, vorrei pubblicare altri quattro video. Qui non faccio la distinzione video pensati o video non pensati, perché questi video un po' più estemporanei su quel canale non ci vanno a finire comunque. E invece per quanto riguarda Rapido, che appunto è questa piattaforma open source, chiamiamola così, quello che vorrei fare è concentrarmi sul numero di startup che effettivamente si registra, assicurarmi che il flow di onboarding sia perfetto, quindi quando qualcuno compila questo form, dice che è un founder, poi può effettivamente candidarsi come startup, quindi facciamo qui un piccolo test. Io metto qui la mia candidatura, poi chiaramente la startup compilirà questo form e potrà essere selezionata. Una volta selezionata entrerà in quello che è il portale di Rapido e all'interno di questo portale ci sono un po' di risorse, un po' di funzionalità su cui stiamo lavorando, ma soprattutto la possibilità di ricevere degli sconti interessanti su tanti tool che vengono utilizzati normalmente da questo tipo di aziende. Quindi mi sono messo due obiettivi diciamo numerici, il primo è quello proprio di startup accettate, onboardate all'interno della piattaforma e l'altro è quello del numero di sconti utilizzati, non perché io ci guadagni nulla nella redemption degli sconti, ma insomma io pago la struttura per offrire questi sconti, sono cose utili, penso che sia un buon modo, un buon proxy per anche valutare il valore che sto offrendo alle aziende che fanno parte di Rapido, quindi mi sono messo questo valore qui e poi una cosa più amministrativa, assicurarsi che la parte di onboarding sia effettivamente efficace, efficiente. E niente, come dicevo anche nell'episodio precedente, forse ci sarà anche un po' di mano per tenere d'occhio questo progetto, se anche qualcun altro di voi è interessato, io sono tutto orecchie. E questo è un po' l'overview dei nuovi obiettivi della settimana. Poi ovviamente si continuerà il tema della musica, spero di avere aggiornamenti per quanto riguarda il tema stand-up in portoghese, continuerò a fare esercizio, vediamo se riuscirò a portare qualche nuovo massimale magari. Come anticipavo ci sarà anche un viaggio, vedrò se portarvelo o meno e io adesso vi lascio come al solito al Tommaso del Futuro per le clip della settimana. Riflessione mentre vado in ufficio, sui ritorni non lineari dietro l'architettura delle nostre abitudini. Cosa vuol dire questa frase? estremamente nerd. Beh, se pensiamo alle nostre azioni, le nostre abitudini, appunto, alle nostre scelte in forma atomica, no? Le riduciamo nella loro dimensione minima, irriducibile. Giro a destra, giro a sinistra, mi alleno oggi, non mi alleno. Alla fine ci troviamo sempre con dei booleani, quasi sempre. Vero o falso, sì o no, lo faccio o non lo faccio, destra o sinistra. E chiaramente queste decisioni vengono prese dopo un assessment, che fa il nostro cervello in maniera, diciamo, praticamente inconscia, in un modo che a noi è sconosciuto. Quindi noi pensiamo in un millesimo di secondo, che faccio, mi alleno o non mi alleno? Che faccio, chiamo o non chiamo? E quasi senza sapere il come e il perché, la decisione è presa per noi. Qual è un problema che affligge un po' tutti noi, specie quando si parla di disciplina? Che chiaramente il nostro cervello ci nasconde questa formula con cui prende le decisioni, e a volte noi, nella nostra forma razionale, nella forma pura, nella forma lavoratrice, per esempio, qual è il problema? È che chiaramente a noi questa formula è abbastanza sconosciuta, e è difficile da modificare. Difficile dire al cervello di pensare e dare priorità al lungo termine dello sviluppo della nostra carriera quando lui è preoccupato di mangiare stasera perché c'ha fame, che ci potrebbe essere una tigre che ci attacca domani mattina. Scusate l'interruzione letteralmente fisiologica, dovuta a questo simpatico esemplare. Qual è il problema? E' che chiaramente questa formula a noi è almeno parzialmente sconosciuta. E poi è anche difficile convincere il cervello a modificarla. E' difficile convincere il nostro cervello a dire ma sai che c'è? Non do priorità al fatto che ho fame e devo mangiare, se no rischio di morire, ma do priorità al nostro benessere fisico, alla nostra carriera tra dieci anni. Non funzioniamo così proprio biologicamente come esseri umani. Questo è un po' un problema ormai, insomma, universalmente riconosciuto. E quindi cosa c'entrano tutte queste banalità con discorsioni sui ritorni non lineari nell'architettura delle nostre giornate, delle nostre abitudini? Beh, in realtà è abbastanza semplice. Fondamentalmente noi non sappiamo qual è la formula che c'è dietro al modo in cui prendiamo una decisione, ma possiamo monitorare quelli che sono i risultati, quelle che sono le decisioni che prendiamo e possiamo cercare di, come dire, modificare i parametri di questa equazione che il nostro cervello fa per decidere se andare a destra o a sinistra, per spostare un po' la scala, traducendo proprio letteralmente dall'inglese, verso quello che noi, in una fase fredda e calcolatrice, non quella in cui abbiamo fame e cerchiamo da mangiare, crediamo sia la scelta migliore. Quindi il Tommaso che il primo gennaio si siede e dice ma io che voglio fare della mia vita? Voglio fare X, voglio fare Y, quali sono i miei obiettivi? Decide che il suo obiettivo è girare a destra, farà in modo che, dopo aver realizzato che molto spesso invece il nostro cervello decide di girare a sinistra, per dire, i parametri dell'equazione, che vuol dire quello che abbiamo intorno, questa molletta, le indicazioni per strada, il posto in cui parcheggiamo la macchina, siano allineati alla nostra scelta di andare a destra, quindi magari la macchina la parcheggio sempre sulla destra di dove è il portone di casa mia, così che esco di casa e giro a destra. Adesso sto dicendo ovviamente stupidaggini. Quindi queste stupidaggini fanno parte del primo concetto fondamentale. Come ci si collega però alla parte non lineare di questo teorema dei poveri che sto elaborando? Beh, appunto trattandosi di scelte uno o due, in realtà quello che ci basta è che l'opzione uno sia lo 0,1% più favorevole rispetto all'opzione numero due. E quindi anche dei piccoli cambiamenti che però permettono di cambiare il risultato di questa equazione, poi magari ci fanno vincere dell'1% ogni singola decisione. Però alla fine dell'anno il risultato sarà che 365 volte l'opzione uno ha vinto. Usando una metafora calcistica, noi preferiamo essere la squadra che vince tutte le partite 1-0 rispetto alla squadra che vince dieci partite con dieci gol di scarto, no? Quindi è un concetto in realtà molto semplice che però penso si collega bene al tema del vlog di questa settimana. Perché appunto abbiamo parlato del fatto che magari ho lasciato da parte un po' quello che è il mondo YouTube, quelli che sono altri progetti che avevo iniziato e mi rendo conto che se voglio continuare a lavorarci e per giustificare anche lo sforzo che c'è dietro, per me è fondamentale avere una struttura che mi consenta di decidere, di intraprendere questi percorsi, queste sfide e di farlo in maniera efficiente e efficace. Quindi buona parte del vlog di questa settimana sarà anche dedicata a mostrarvi qual è il, tra virgolette, setup che ho per gestire tutti questi contenuti YouTube che ho creato, che voglio creare, per farlo in maniera efficiente, anche magari poi vedere questo sistema applicato da altre cose, come per esempio la palestra che ho qui in ufficio, no? Cioè, qual è uno dei motivi per cui questo rack è qui? Magari avere l'attrezzatura qui rispetto ad avere la palestra mi fa risparmiare solo 5 minuti ogni volta che vado. Però non è che poi vado a vedere questi 5 minuti cumulati alla fine dell'anno corrispondono a 2 ore di tempo risparmiato e allora faccio 2 allenamenti in più all'anno, no? Io magari faccio il doppio degli allenamenti adesso perché magari ogni volta che prendo la decisione di allenarmi o meno questi 5 minuti erano parte del motivo per cui il risultato dell'equazione nel mio cervello era no invece che sì, no? E quindi sto aggiungendo troppe un po' troppi no in questa frase però spero che si sia capito. Quindi niente, questa riflessione era partita mentre camminavo ma tra interruzione di Simbad vento, impappinamenti miei è finita che sono già arrivato in ufficio quindi vi saluto che adesso si torna a lavorare. A proposito di efficienza proviamo a sfruttare i minuti di recupero tra una serie e l'altra di palestra come potete intuire dal fiatone per parlarvi di un po' di strumenti che secondo me sono utili a chi vuole velocizzare certi tipi di workflow. Il primo strumento di cui vi parlo mi è stato regalato da Synology è questo bellissimo esemplare di DS1821+. Qui dentro ci sono degli SSD che sto usando e questo qui è un NAS quindi una server che mi permette di accedere i dati che sono all'interno di questi SSD da ovunque nel mondo ma soprattutto dal mio network locale. Questo è utilissimo perché chiaramente è attaccato alla rete. Se non sbaglio di default ha una porta da 1 GB per secondo io ho anche comprato diciamo l'estensione per dargli 10 GB per secondo di velocità di trasferimento e perché è utilissima questa cosa magari connessa con uno switcher come questo che poi prima o poi metterò in azione però adesso sto usando altro perché fondamentalmente questa connessione arriva poi anche al computer dove io registro tutte quante le cose adesso lì c'è un casino ma vabbè e quindi appena finisco di registrare un video fondamentalmente tutto quello che io voglio mandare al NAS arriva lì e soprattutto il NAS è anche accessibile dalla persona che edita i miei video quindi è una cosa di cui ho parlato anche in live se non sbaglio un po' di tempo fa il mio obiettivo è fare in modo che appena il video è finito venga caricato direttamente sul NAS e diventi accessibile anche alla persona che sta editando i video. qual è il vantaggio rispetto a usare un servizio come Google Drive che tutta la parte di upload download e sincronizzazione è molto più veloce quindi questo chiaramente è un utilizzo del NAS ce ne sono 5000 c'è chi lo usa per fare streaming di contenuti video, foto che magari vengono centralizzati nel NAS e poi vengono distribuiti su vari dispositivi ovviamente ci sono tante app che potete installare sul software del NAS per fare questo tipo di operazioni però ecco in ambito professionale secondo me è un tool assolutamente da tenere in considerazione questo è l'ATEM Mini Switcher nel mio caso questa è la versione Extreme ISO che non serve penso a molti non serve neanche a me semplicemente lo usavo per un'attività precedente che facevo e mi è rimasto sul gruppone la cosa interessante è che permette di connettere tante fonti video come varie fotocamere a volte anche display del computer anche se è un po' più complicato questo è un Google come si chiamano Chromecast a cui volendo potrei mandare dei video per averli qui dentro quindi la Source 8 diventerebbe la Chromecast fondamentalmente e è uno strumento molto utile per un paio di ragioni è uno strumento molto utile perché sposa a pennello questa filosofia dell'ottimizzazione mentre sto registrando sia fisicamente cliccando sui bottoni ma anche tramite software io posso fare dei tagli tra le varie camere quindi volendo fare dei montaggi multicamere che adesso non faccio più ma che prima volta facevo mi viene facilissimo farlo tramite Atem ma soprattutto appena finisce di registrare mi crea in automatico un file in formato da Vinci perché è un programma di editing video e questo file all'interno ha già tutte quante le camere quindi non c'è bisogno di fare sincronizzazione non c'è bisogno di fare nulla l'editing è super facile ed è veramente bello come strumento per chi fa video soprattutto chi fa video con tante camere magari se volete fare un podcast se volete fare un video di alta qualità di produzione assolutamente ve lo consiglio magari nelle versioni ridotte con meno entrate insomma in base a quello che vi serve chiaramente poi vedete se vale la pena o meno ma chiaramente questo non è un video sul video making o sulla gestione dei file quindi quello che voglio fare è offrirvi degli spunti per capire come poter ottimizzare dei processi non solo tramite hardware ma anche lato software ho pensato che un buon esempio possa essere quello di mostrarvi il workflow che sto usando al momento in particolare per farlo uso lo stesso strumento che avete visto io utilizzo per tracciare le abitudini che è click up all'interno di click up ci sono varie cartelle che si possono usare per gestire i task alcune di queste sono dedicate ai canali youtube che gestisco gestisco tra virgolette vista la quantità di video che faccio ultimamente ma insomma ci siamo capiti all'interno di queste di queste liste ci sono i vari video che voglio andare a fare questi video hanno chiaramente un nome hanno delle persone diciamo a cui sono assegnati hanno uno status ok quindi in questo caso il vlog 04 lo devo registrare hanno una data di pubblicazione a volte quando quando la data di pubblicazione effettivamente c'è una data di registrazione un folder di google drive che è molto interessante adesso andiamo a vedere e poi in realtà altre cose che non uso c'è una live di sette mesi fa dove avevo forse più capelli qualche kill almeno in cui vi faccio vedere un po' il processo che ho utilizzato per creare tutta la struttura che c'era dietro al podcast di rapido sia da un punto di vista concettuale ma anche da un punto di vista pratico di youtube se non sbaglio youtube automazioni ecco dovrebbe essere qui quindi vi faccio vedere come ho costruito questa automazione con make chiaramente vi do un riassunto al volo fondamentalmente quello che succede è che io creo un task su click up poi questi task vengono filtrati e nel momento in cui l'automazione riconosce che io ho creato un nuovo video youtube che voglio andare a fare mi va a creare in automatico una cartella queste cartelle sono strutturate tutto allo stesso modo hanno come titolo il nome del video che ho messo su click up i video youtube iniziano sempre con yt e poi un numero che è un numero sequenziale quindi tutti i video hanno numeri diversi e poi il titolo del video più o meno ogni cartello in automatico avrà dentro un foglio chiamato script un foglio chiamato footage e broll e un altro foglio chiamato file finali quindi l'idea è che io qui dentro scrivo lo script questo è un template che viene copiato in automatico scusate anzi ve lo faccio vedere che non state vedendo questo qui poi dentro al folder del broll io carico tutti i video che ho registrato appunto magari tramite gli agg hardware che vi ho fatto vedere prima questo può essere sincronizzato anche con sinology come vi dicevo quindi magari io posso anche caricare direttamente su sinology e poi sinology file sync con google drive perché chiaramente è più veloce e poi nella cartella file finali ilaria che edita i video carica il video e io fondamentalmente posso andare qui e ce l'ho come reference futura e lo posso anche come dire revisionare in caso quindi tutto questo viene creato da questa automazione qui ci sono un paio di altre cose che succedono a volte si creano dei sub task per i video short io diciamo non utilizzo al massimo tutta questa automazione ma penso che sia un tema molto interessante per quello che stavamo dicendo prima cioè l'avere questa struttura che mi permette di non fare questi piccoli task che magari prenderebbero 30 secondi di aggiustare i nomi creare le cartelle ogni volta non averlo mi permette di buttare giù molte più idee creative a livello di video e poi nel momento in cui io vedo ah voglio fare questo video qui non ho la preoccupazione di dovermi occupare di queste piccole cose che magari mi bloccherebbero dall'iniziare una volta che inizia a lavorare sulla parte che mi interessa di più sul voglio scrivere lo script voglio scrivermi i bullet point voglio scrivermi l'idea sono pronto per per andare e comincio subito quindi questo secondo me ha un impatto molto più grande di quello che non si possa pensare andando a guardare solo il tempo che andremo ad impiegare a volte le persone sovrastimano l'impatto in termini di quanto tempo andrò a risparmiare anche questo sicuramente è un problema si va a volte verso troppo questa ottimizzazione del workflow andare a utilizzare il tool perfetto chiaramente secondo me questa è una trappola che va evitata io penso che sia un fattore interessante su cui ragionare anche da questo punto di vista c'è un video che secondo me è un po' sottovalutato rispetto a quello che dico c'è un video che secondo me sono molto inferiori a livello di pensiero e di qualità che sono stati visti di più però ci sta era anche su un un canale nuovo sul canale Dan Smarter che è un altro canale d'inglese perché giustamente non avevo abbastanza cose da gestire in questo video diciamo che riprendo un po' la classificazione dei task di produttività che calda e offre il mio punto di vista e spiego perché secondo me c'era un errore nel framework che lui ha utilizzato originariamente spingo questo video perché io voglio che prima o poi lui lo guardi voglio sapere cosa ne pensa però a parte questo insomma penso che sia che siano riflessioni importanti magari non sto qui non sto qui a ripetermi troppo detto questo alla fine di ogni vlog c'è sempre la revisione di quello che è successo nella settimana dalla tabella diciamo tipica di ClickUp questa settimana per un motivo o per un altro appunto non ho fatto questi check-in è comunque una settimana in cui ho avuto vari giorni di vacanza in cui sono stato fuori quindi non sono stato dietro a queste cose ma allo stesso tempo avevo tutta una serie di task da completare prima di partire quindi intensa secondo me fa anche parte del gioco riconoscere che a volte ci sta prendersi una pausa diciamo pianificata da questi tipi di tracciamenti e sapere che poi magari uno tornerà dopo quando sarà più più adatto sono stati giorni fuori che sono stati anche interessanti per riflettere un po' su l'approccio che stava avendo verso verso certe cose l'approccio che stava prendendo per esempio l'approccio all'esercizio in modo in cui lo vivevo e soprattutto sull'aereo quando magari c'è tempo per riflettere su queste cose quindi ve ne parlerò magari nel vlog di settimana prossima penso che ci saranno spunti interessanti questo video come forse avrete capito lo sto registrando a settimana in realtà ben passata perché appunto sono stato fuori però appunto ve ne parlerò nel prossimo video quindi se volete sapere cosa ne penso un po' di questi temi dovete iscrivervi e seguire poi settimana prossima il prossimo episodio io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao